Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Ultime sedute dell'anno del Consiglio regionale dedicate inevitabilmente al provvedimento più importante e più atteso, ovvero l'approvazione della manovra finanziaria 2024-2026 della Regione Toscana. In aula il dibattito è stato molto acceso ed è andato avanti a lungo e questa puntata è interamente dedicata a questo macro argomento. Allora facciamo il punto di quanto accaduto e di tutti i dettagli relativi ovviamente alla manovra finanziaria della Regione. Vediamo. Dopo giorni di sedute, interruzioni, frizioni all'interno della maggioranza e accesi dibattiti, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge di stabilità e il bilancio previsionale 2024-2026 della Regione Toscana. Al voto finale, fatto per appello nominale, hanno votato a favore 22 consiglieri della PD mentre si sono schierati contro 11 consiglieri delle opposizioni. Italia Viva non ha partecipato al voto anche se i due consiglieri della maggioranza hanno votato a favore di molti articoli dell'atto. A far discutere per giorni è stato l'emendamento a firma della Presidente della Toscana, Eugenio Gianni, che aumenta l'aliquota regionale IRPEF per reperire 200 milioni di euro necessari a ripianare il bilancio della sanità regionale. Anche in questo caso, al momento del voto, i due consiglieri di Italia Viva sono usciti dall'aula e l'atto è stato quindi approvato con 22 voti a favore della PD e 13 voti contrari di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Possiamo dire in Toscana di aver salvato la sanità pubblica. Quello che chiaramente ormai il governo vuol fare è quello di indurre, tagliando, impedendo di avere in questo caso 420 milioni di payback che ci spettano per legge e che l'anno scorso un diverso governo con il Ministro Speranza avevamo avuto. Il tentativo è chiaramente di indurre, restringendo le spese alla sanità, di tagliare e spostare sulla sanità privata quelle che sono le indicazioni. Noi a questo ci ribelliamo, l'abbiamo dovuto fare proprio all'ultimo momento perché prima ci avevano fatto in qualche modo pensare che una situazione quella della sanità toscana era un vanto per la sanità italiana e che quindi sarebbe stato rimediato a queste cifre, a queste risorse. Poi quando è emerso che tutto questo non avveniva, allora abbiamo dovuto prendere la posizione di incrementare quello che è l'addizionale IRPEF. Ma è un unatantum. Intanto quest'anno ci riorganizzeremo, cercheremo di limare, aggiustare e cercare di capire dove poter svolgere gli stessi servizi con meno spesa e al punto in cui arriveremo il prossimo anno nuovamente ci riporteremo a livelli più bassi di imposta IRPEF. Naturalmente quello che è emerso in questo dibattito è il vuoto di proposte dell'opposizione. Tanti discorsi, ma se io dovessi oggi mantenere e avere un'idea di come ridurre le spese in sanità dagli interventi dell'opposizione troverei lo zero assoluto. E quindi io da questo tratto le conseguenze che abbiamo fatto bene a intervenire con tempestività ora. Io non ritengo che la maggioranza sia stata mai messa a rischio. Forse era la centrodestra che pensava che qui ci fosse una crisi di maggioranza. C'era una divergenza di punti di vista. Una questione oggettiva che noi abbiamo insieme al collega Sguanci rimarcato dal primo giorno di questa discussione noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione che implica una tassazione molto forte nei confronti di cittadini toscani. Io l'ho definita fin dal primo giorno iniqua, ingiusta e non corretta per un livello di progressività che non ritengo corretto. Penso che sia legittimo discutere nel merito a un certo punto di queste trattative in queste giornate si è entrati nel merito non si è arrivati laddove noi volevamo perché noi pensiamo che non sia corretto che una persona, un professionista che guadagna 85.000 euro non debba pagare niente perché ha un regime forfettario non pensiamo che non ci sia una gradazione corretta che porti sulla fascia delle persone che sono una classe media quelle persone che da 1.400 euro al mese guadagnano 2.500 a dover pagare più 97%. questo ci ha consentito di disentire su questa misura noi ci stiamo in questa maggioranza e credo che dita da viva ci ne sia bisogno perché questo senso critico e questo spirito porta a raccontare la verità noi non siamo per aumentare le tasse abbiamo messo in campo proposte alternative noi eravamo e rimaniamo convinti che il credito debba essere riscosso sbaglia il governo Meroni a non assumersi questa responsabilità e a costringere le regioni a fare queste manovre quindi noi avremo continuato a fare la battaglia nei confronti del governo Meroni mi fa un po' strano che siamo gli unici a denunciare le mancanze di un governo che non mantiene gli impegni con i cittadini e con le regioni questa manovra di bilancio resterà nella storia non credo della regione toscana semmai nella storia fiscale della regione toscana come la manovra che va a mettere le mani in tasca ai cittadini toscani è un qualcosa che pensavamo appartenesse a dire la verità a un'altra epoca politica noi abbiamo sperato fino all'ultimo momento che non si ricorresse non si riportasse sulla scena politica quella dicotomia che appartiene al passato per cui se i costi crescono e non si riescono a controllare l'unica maniera che si ha per limitarli è aumentare le tasse ai cittadini dispiace dispiace per due motivi la prima perché che i soldi del payback non erano sicuri di arrivare nelle casse della Toscana non l'abbiamo scoperto ieri che non fossero sicuri noi potevano anche arrivare ma che non fossero sicuri lo sapevamo però da almeno 18 mesi e in questi 18 mesi tante volte anche dai banchi dai banchi della minoranza è arrivato un invito al Presidente Gianni a mettere mano ad una ristrutturazione ad una riorganizzazione del sistema toscano sanitario che non è stata fatta e poi all'ultima abbiamo dovuto aumentare le tasse ma c'è di più perché oggi il Presidente Gianni in aula ci dice che da oggi partirà una task force alla quale noi crediamo e siamo super favorevoli una task force per razionalizzare le spese e riorganizzare il sistema sanitario perché grazie a questa task force eviteremo che il provvedimento di aumentare le tasse diventi strutturale era decenni che non si vedeva un aumento delle tasse in questa misura 200 milioni che andranno ad incidere su una fascia reddito di persone che poi prendono circa 1500 euro il mese quindi non una operazione a cuor leggero che questa maggioranza ha dovuto fare dopo che per tanti anni il bilancio della sanità non versa ovviamente in buona salute questo purtroppo oggi arriva sui banchi del Consiglio regionale l'aumento dell'IRPEF che andrà a toccare senza progressività e in maniera completamente fuori misura rispetto anche a quello che fanno le altre regioni italiane si vuol dare responsabilità al governo ma questa problematica noi la sappiamo anche in riferimento a quello che poi è il tema del payback che poi è un tema anche molto complesso in realtà di questa situazione si sa in regione ne abbiamo discusso già anche lo scorso anno quindi si è arrivati alla fine ma quello che fondamentalmente va fatto è rivedere il sistema sanitario regionale partendo dalla riformulazione di quel piano del 2015 che ha centrato un potere amministrativo che invece deve essere riportato sui territori perché questo ha causato soltanto peggioramento dei servizi e aumento dei costi è una decisione che abbiamo ponderato a lungo e che certo non facciamo a cuore leggero perché tutti quanti credo avrebbero preferito non gravare sui contribuenti toscani anche se noi abbiamo scelto di chiedere una sorta di contributo di solidarietà alle fasce più alte o medio alte di fronte ad un governo che da una parte in percentuale ha tagliato il fondo per sostenere la sanità pubblica dall'altra non ci riconosce il payback che l'anno scorso era di circa 400 milioni e che è previsto da una legge dello Stato noi avevamo poche altre scelte potremmo rinviare questa decisione come ha detto qualcuno e fare la battaglia perché il governo ce la riconosca ma se poi il governo non la riconosce passata la fine dell'anno noi saremmo costretti ad andare in piano di rientro e quindi automaticamente le aliquote dell'IRPEF andrebbero al massimo non soltanto per le fasce più alte come abbiamo previsto noi cioè non prevedendo nessun aumento per chi fa una dichiarazione dei redditi da 0 a 28 mila euro ma sarebbero aumentate per tutti in più aumenterebbe l'IRAP a carico delle aziende quindi questo noi non ce lo possiamo permettere quello che mi domando anzi ci domandiamo è questa continua rimodulazione di investimenti e impegni di spesa come anche tra le righe viene menzionato come richiamo della Corte dei Conti ha portato in alcuni casi a stipulare dei mutui per i quali la regione toscana ha pagato degli interessi nel caso del raddoppio ferroviario Pistoia-Lucca si parla di un rinvio di 10 anni quindi noi abbiamo acceso dei mutui e abbiamo pagato interessi passivi per 10 anni questo a nostro avviso sono spreco di risorse così come anche tanti altri per dire lo stanziamento di 800 mila euro per il golf del Casentino che addirittura non sono solo stati rimodulati ma addirittura aumentati di 100 mila euro in una situazione del genere dove chiediamo ai cittadini toscani di mettersi le mani in tasca e pagare i buchi della sanità noi diamo 100 mila euro in più per il golf del Casentino ecco io mi domando dove si trovi il coraggio di fare queste operazioni durante l'ultima e decisiva seduta a fiume dell'anno che ha portato all'approvazione del maxiemendamento la nota di aggiornamento al documento di economia e finanzia regionale la legge di stabilità il collegato e il bilancio previsionale i consiglieri delle opposizioni hanno protestato esponendo anche uno striscione in aula per le ripetute sospensioni dei lavori chieste dalla maggioranza per ben tre volte infatti i principali esponenti di PD e Italia Viva si sono riuniti a porte chiuse per trovare un accordo sull'aumento dell'aliquota regionale dell'IRPEF necessario a sanare il bilancio della sanità ci viene sempre detto che i bilanci sono tecnici e dove sono i tecnici nelle riunioni ci viene detto che è un bilancio che va costruito con i tecnici noi sempre i tecnici nelle riunioni non ci sono ci sono solo i politici che con l'auricolare nell'orecchio aspettano che da Roma qualcuno gli dica come devono andare e magari in scambio con qualche figurina nei 184 comuni che andranno al voto nella prossima tornata amministrativa compreso il comune di Firenze abbiamo detto in maniera molto chiara che noi siamo stanchi che a questo gioco non ci stiamo e in maniera altrettanto chiara diciamo al presidente Gianni stacca la spina trova il coraggio è arrivato il momento di andare a casa e di portare la regione alle urne i tempi tecnici ci sono noi chiediamo elezioni immediate nel giugno del 2024 con i comuni che vanno al voto perché la regione toscana merita una guida salda che non aumenti le tasse di prospettiva con una maggioranza che vada d'accordo nell'ambito della manovra finanziaria approvata dall'aula di Palazzo del Pegaso a maggioranza tra le polemiche rientrano anche le misure finanziarie a sostegno delle famiglie e delle attività economiche toscane colpite dall'alluvione di inizio novembre la proposta di legge che è stata approvata all'unanimità prevede un intervento straordinario per tutti coloro che hanno subito danni e per cui il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza nazionale una legge molto importante perché con questa legge noi andiamo a dare un primo segno di solidarietà e di vicinanza alle famiglie che sono state duramente colpite dall'alluvione in questa legge troviamo l'elenco di tutte le province e dei comuni che hanno subito danni e stanziamo la cifra di 37 milioni che saranno suddivisi in circa 12 milioni alle imprese e gli altri restanti alle famiglie con un plafond che va fino a 3 mila euro di riconoscimento per le famiglie è un primo gesto di solidarietà di vicinanza è un primo aiuto che arriva dalla regione toscana un atto concreto insieme a questo i soldi per le imprese le piccole e medie imprese le aree commerciali e quindi con una parte che prevederà l'abbattimento degli ammortamenti e quindi tutta la parte degli investimenti e l'altra parte che sarà dedicata a comprare materiale che è andato deteriorato e quindi per acquisto anche di macchinari che sono stati sciupati è una piccola cosa a cui speriamo si aggiungeranno presto le risorse del governo perché siamo consapevoli che questo non basterà però nel frattempo questi 37 milioni di cui appunto una parte 12 alle imprese e il restante alle famiglie saranno speriamo un piccolo gesto che darà un po' di sollievo a chi ancora sta soffrendo questo dunque il bilancio regionale il punto della situazione alla luce delle ultime sedute dell'aula di palazzo del Pegaso una puntata come detto interamente dedicata a questo tema ma l'appuntamento con la voce del consiglio su RTV 38 torna la prossima settimana con una nuova puntata grazie per averci seguito e buon proseguimento arrivederci a tutti a tutti Grazie a tutti.